Una volta sui nostri comodini c'erano le classiche sveglie, tradizionali oppure con forme strane, poi con il tempo sono comparse quelle più tecnologiche e adesso il posto della sveglia tradizionale è stato preso dallo smartphone che grazie alle sue molteplici funzioni ha anche quello di dare il buongiorno. Ogni apparecchio ha la funzione standard con decine di suonerie oppure offre la possibilità di inserire la propria canzone preferita. Ma nel 2015 i telefoni di ultima generazione offrono anche le sveglie con vari tipi di applicazioni, nuovi suoni e soprattutto nuovo design sullo schermo. Secondo uno studio europeo realizzato in occasione del lancio di una radiosveglia è emerso che agli italiani piace la comodità, sveglia qualunque essa sia sul comodino nell'87% dei casi. Preferita la radiosveglia quindi alzarsi con una canzone e tra le curiosità emerge che il popolo di casa nostra i primi suoni si alza rispetto alla media degli altri paesi europei che fatica un po' di più.